Emessi dal questore Dario Sallustio, sei d'Aspo Willy e sei fogli di via obbligatori. Tra i d'Aspo, quello notificato ad un cittadino italiano che durante la Notte Bianca aveva seminato il panico tra la gente, minacciando gli steward della sicurezza privata che lo avevano invitato a tenere un comportamento consono e in preda ai fumi dell'alcol gli aveva lanciato contro un bicchiere di vetro. L'intervento degli agenti di polizia aveva evitato il peggio e il giovane era stato identificato e sanzionato amministrativamente per ubriachezza in luogo pubblico. Un D'Aspo Willy è stato adottato nei confronti di un cittadino ivoriano ritenuto responsabile di aver commesso una rapina impropria e minaccia nei confronti di un altro avventore incontrato all'interno di un esercizio pubblico in via Fabiani, adottata nei suoi confronti anche la misura di prevenzione personale dell'avviso orale. Tra i fogli di via obbligatori dal territorio provinciale per quattro anni, tre sono stati notificati a residenti in provincia di Padova, rintracciati a settembre da una pattuglia dei carabinieri di Vicenza, mentre erano intenti a mettere a segno un furto su un'auto in sosta per poi darsi alla fuga. Intercettati erano stati trovati con a bordo dell'auto denaro e monili d'oro, proventi illeciti della truffa aggravata in concorso, perpetrata quello stesso giorno nei confronti di un'anziana signora vicentina.